Oggi ci sconteremo contro un ciclova e non so se grida odisse. Sto andando. Non siamo più fatti, c'è. Stiamo qua. Scamper. Scamper. No, 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 no. Sì, non è vero. ok 2 2 2 3 4 5 5 5 6 C'è fatta, vinto. Guardiamo l'inventario. No, l'ho cliccato in un'altra. Adesso ho cliccato l'inventario. Smentilliamo alcuni altri che mi servono. Arco eccellente. Arco di serone. Più 17% dal cacciatore, più 12% d'attacco al carico. Arco più 20% di salute e armatura. Perfetto, ci vediamo la prossima. Ciao.